bentornato in un questo video vediamo un bellissimo arrangiamento dopo tanto tempo della serie professional mi sono ispirato a un chitarrista americano quindi simile ne ho fatto una versione più semplice swing di questo brano famoso provo a suonartelo lentamente e poi te lo faccio vedere lentamente con la tab sopra il video quindi segui tutto questo video perché ti mostro la tab sopra il video integralmente faccio un intro grazie a tutti a prima vista quindi basta provarlo per una settimana e soprattutto diciamo quando fa quella variazione basta farlo piano stessa cosa può sembrare strano dici ma sembra che non lo sai suonare nemmeno tu no ti dimostro come sia facile perché suonarlo se mi credi mi credi perché lo suono male no perché lo suono a prima vista cioè senza averlo mai suonato cioè scriverlo lo spartito per una settimana è un lavoro dopo dovrei stare una settimana a suonarlo ma ovviamente per concepirlo dei mesi prima di scrivere avendo preso spunto il processo è ridotto in perché già avevo l'idea swing di un altro chitarrista però è riscritto diversamente con questo ti voglio mostrare come sia facile perché basta e non il contrario lo suoni incerto quindi figurati se lo provo io dire cioè tu no è il contrario cioè se lo provi una decina di volte per una settimana è ovvio che devi avere una tecnica armonica conoscenza degli accordi di settima minima di qualche anno come tutti gli arrangiamenti e quindi non è trovi la tab sotto il video e io ti ringrazio per essere stato con me ti mostro quest'altra parte è il tutorial lentamente cioè faccio sintetizzo fa un'introduzione sull'accordo di dominante quindi un si settima si alterato che va al mi maggiore po quindi va e già fatto fatto lentamente è molto semplice è molto semplice la la diteggiatura è importante spero ti sia utile e divertente e in tonalità di mi maggiore poi lo propongo in tonalità di do un arrangiamento non più facile ha un altro suono ovviamente in do vedi come suona diverso io ti ringrazio per essere stato con me ci sentiamo alla prossima scarica la tab iscriviti al sito e al canale ciao 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 ciao